Un piglio determinato e minaccioso dal punto di vista sportivo e siamo alla prima, dai 12 di prese, per questo tentativo di Lorenzo Di Giacomo di togliere la cintura della comunità europea a Lolenga Mok, pugile congolese di nascita, danese di nazionalità. Mok sembra partito già con il pietro di Giacomo. L'idea è chiara di Lolenga Mok con il suo jab, è più alto il campione, è più alto e tenta di sfruttare le caratteristiche delle braccia più lunghe nel miglior modo possibile, che è il gancio di Giacomo che dovrà passare questa sera attraverso un incontro di estrema sofferenza, perché per arrivare a dar fastidio a Lolenga Mok dovrà necessariamente accorciare la distanza. E dovrà quindi esporsi alla tecna. Ecco, il sinistro di Giacomo. Questa è la strada, ottimo tempismo da parte di Giacomo, montante sinistro di Giacomo piega per un momento le ginocchia a Lolenga Mok, però di Giacomo è rimasto un pochino a guardare gli effetti del colpo e ha dato modo a Lolenga Mok di assorbire, sia pura e in maniera bellotissima, il colpo e di rimettersi in guardia. Ottimo inizio di Giacomo, nonostante la brillantezza fisica direi di Lolenga Mok, che appare un tantino più prestante dal punto di vista muscolare di quanto non appaia invece il nostro pugile. Tra l'altro cede anche 100 grammi come abbiamo sottolineato in apertura, assolutamente in forma fantastica nonostante le 38 primavere. Sì, è fisicamente ineccepibile, mentre Lorenzo di Giacomo è sempre stato un pochino rotondino, rotondetto per meglio dire, ma è la sua caratteristica fisica questa, al di là della preparazione che sicuramente sarà al massimo, come sempre da parte del pugile abruzzese, che il suo lo dà sempre, non l'ho mai deluso, si può vincere, poi si può perdere, ma non l'ho mai deluso le aspettative. Ha stato un pugile costante durante tutta la sua carriera che ricordiamo è cominciata nel 97 da professionista a soli 19 anni, quindi pugile di lunghissima esperienza. Poi sai, sconfitte contro Silvester e contro Azikainen, due campioni del mondo, per cui tutto dire. E in due tentativi al titolo europeo. E diciamo che Silvester, con Silvester, se avesse combattuto in Italia probabilmente quegli incontro sarebbe andati in un'altra maniera, senza voler togliere nulla ai meriti del campione mondiale. Pase finale del primo round intanto un po' confusa, molti colpi ho conto da una parte e dall'altra, dopo le fiammate dei primi due minuti, voi i pugili hanno inteso, calmarci un attimo, 10 secondi al termine della prima ripresa e a vuoto il gancio di Di Giacomo. Poi c'è un buon tono in destro, non dico Lengamo, che termina. Una buona prima ripresa da parte di Lorenzo Di Giacomo.